no che cazzo quando vedrai la facecam che ti fa arso dirai ma che cazzo è sta roba the serving bitch bella ragazzi e bentornati benvenuti al secondo episodio di ragecraft con stepney dato che il primo episodio vi è piaciuto un fottio e siamo arrivati quasi a 50.000 like per questo secondo episodio ve ne chiedo 35.000 se volete che il terzo appuntamento arrivi entro la fine di questa settimana quindi spolliciate come dannati che voglio vedere proprio i like che esplodono dallo schermo arriviamo a 35.000 godetevi il video spero che vi piaccia bella bella ragazzi e benvenuti a questo secondo incredibilissimo episodio sempre più incazzato di ragecraft qui con me c'è come sempre il grandissimo stepney che esattamente che questo pomeriggio ha deciso di suicidarsi e allora oggi spereremo meno piccola annotazione però piccola annotazione dato che tutti ci avete detto che di me, cioè tutti, qualcuno ci ha detto di mettere il keep inventory l'abbiamo messo cosa è il keep inventory per chi non lo sapesse che praticamente se io ho un oggetto e muoio non perdo l'oggetto almeno non dobbiamo suicidarci a rifare tutte le cose mille volte come lo scorso episodio e quindi abbiamo messo il... esatto 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 Sto mangiando cose Cosa? Sto cambiando il volume Eh sì E i mozzi, si fermano se cambiano il volume Ma dove andiamo? Allora, stiamo tornando indietro Però dovremmo andare, secondo me, verso sinistra Perché non abbiamo ancora E contro producenti Non abbiamo esplorato ancora a sinistra, fidati E non andare nelle cose Eh, ho capito Io sto mangiando a un coso con una Aspetta Dai, glielo una bacchettata Questo l'ho trovato da uno di loro Ma questo è mortale Eh, vabbè, il culo Ma non muore Ma c'è scritto l'anturo Forse per quello che non muore No, aspetta, aspetta Io non sto scherzando Questo è veramente immortale Eh, ti ho detto È morto Oddio S'ho spugnato con uno scheletro davanti a me Dove sei? Nella base iniziale ancora Nella tomba Aiuto Ok, vieni Andiamo, corriamo verso Andiamo avanti Andiamo verso sinistra Prendi le pozioni che ti ho regalato Ma non le peri Devi tirarle addosso ai nemici Con la, con la destra Ok Andiamo verso sinistra Ma io ho poca vita Aspetta Poco, due Sei lontano E corri Sto arrivando Sto arrivando No, scherzavo Non sto arrivando Sto arrivando Non sto arrivando Non stai arrivando Non ce la faremo mai Ce la faremo Te sappi solo che non ce la faremo mai Dove sei tu? Ma perché sei lì giù ancora? Mi stanno bombardando E bombardali Ma tu dove sei? In un posto pieno di ragnatele C'è un vampiro Mi sento solo Vedo il castello Lo vedi il castello? Aspetta Sto spaccando Non so cos'è questo Io sono al castello Dread Ok? Aspetta Qua c'è la Tipo la La pietra Quella che sta Dungeon Quella verde Sì Eh Probabilmente c'è qualcosa Eh vieni qua allora Però il fatto è che io sono bloccato Vieni qua Aspetta Ok Piccone di legno Eh? Dicesto Niente Ti va Infilato No Giuro Ok Accedo da sopra al castello Ma quale castello? Oh porco E allora aspetta Ho un'idea Hai presente dove ero io? Accucuzzato sul tetto Con la terra Sì No ho fatto un pillare sotto i piedi Sto arrivando Non posso Non ho Sempre in queste situazioni Ma che cazzo faccio io qua? Io ho due No ciao sono morto Abbiamo salvato il mondo Abbiamo salvato il mondo Sono bellissimi C'è della legna qua tra l'altro Ma sei morto vivo? No sono vivo Ma morirò farà un secondo credo No 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 Sono morto Sono morto Sono carne che è morta Morirò soon Eh sarà una lunga avventura No aspetta Spacco lo spawn Perché se riuscissi Eh infatti dobbiamo Infatti dobbiamo distruggerli spawn Lo sai qual è il bello? Ma quante cazzo Dei tipi dell'anna C'è stanno Sulla mappa Ah io ho paura Di disarmare Sto dicendo Go for 10 Che cazzo Coda 12 10 Non scherzo Ok prendo anche un po' di cuo Sì vabbè Ma mo col keep inventory Almeno se abbiamo una spada Ci abbiamo una cazzo di spada Sì Quello è vero No dobbiamo una volta Perderla ti vedo Sto arrivando sulla tua Sinistest Io sto amenando le cose Con una freccia Mi è arrivato il tuo amico No L'hai presa la data Lo zombie L'hai rubata L'hai rubata lo zombie Ok Ok Che mi sembra molto la scena Del primo episodio Dove gli ho detto Guarda canzo Eh sì Muori Allora Va vengo ci sono Vai I follow you I can follow you Dimmi se ti perdi però Perché se ti perdi È tutto inutile Ma il piano Mortacci il pro C'è un pietro Ma che me lo diri addosso I tuoi problemi Dove iniziano E dove finiscono Mi stava inseguendo Giustamente me lo diri addosso Sono nella chiesa Rimani là Sto arrivando Ok aspetta Aspetta la chiesa Cibo Come cibo No Abbiamo il tutto in dentro Ah giusto Mettetevelo Oddio C'è un creeper Che nuota nella sabbia Vola lì No nuota Nuota Dove sei? Eh sto Al centro Al centro della mappa? Sì Cioè sei pieno di frecce Ci sono Ci sono Ok pro player Pro player Vieni ti do una spada Ora sei pronto? Tanto c'ho ancora quella Deglio La butaglia quella merda Prendi questa Dove l'ha tirata Ok Quella è di vanno Ale godo Pezzi Oddio Taglia le sode Ok Perfetto Veni seguimi Non mi dai le spada Ce l'hai un piccone? Sì ce l'ho Ok perfetto Seguimi Magic thread Magic thread Può far tutto C'è un enderman Non lo inculare Allora dove era adesso Aspetta Era là Era là Stai seguendo? Io sì ma spero Ti stia andando nel punto giusto Sto andando dove stavo prima Occhio a non cadere Che è pieno Che è pieno di creeper Veloce Oddio Che succede qua? Olè Oddio Puttana vacca Sali 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 Sto salendo Lai materiali? Sì No Guarda qua Guarda qua Dio di dove? 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 Di qua Spacca Spacca Qua? Che ne so Scavo eh? Scavo Magari non così Facendo una scaletta Verso avanti Purtati che è morbido Se mi butto muoio Non muori fidati Sono dentro A cosa? C'è qualcosa C'è gente Te l'ho detto Sono un cazzo di genio Ci sono i vampiri Oh porca Hai trovato una cripta Ah non sono un cilitero Noi effettivamente Oddio Eh sono armati Io ho il knockback Quindi se li colpisco Io vanno indietro Ok perfetto C'è una cesterla Distruggi Ho vista No da dietro Porco due il piccignacolo Figlio di grandissima puntana Ok abbiamo raggiunto Un cazzo di checkpoint Però eh Oh c'è un fantasma Che cazzo è il fantasma? Esistono i fantasmi? Guarda Cos'è? Non lo so Ma esiste su minecraft Sta cosa? Penso di sì Ce l'hai qualche torcia? Collaborazione Io spacco Io non ho piccone Se tu vuoi un piccolo e me lo dai Mi fa un favore Se no vengono e ti spacco Un altro? Sì ce l'ho Ti amo Un altro Non me l'hai mai dato Va bene Massistica Un altro Ma è da con il ferro lo stronzo Bene Ah cavo No Guarda Hai visto Dov'è questo punto? Cosa? Aspetta Aspetta Tu non c'eri Ti ricordi quando sono caduto dentro al masoleo Era qua? Eh sono arrivato qua Mi ho ucciso il ghost Infatti sono fantasmi Che poi c'è ghast Non è ghost Non è ghost C'è un ghost No è ghost Ah questa cosa Qua è la tua Vieni qua Cosa hai trovato? Tanta roba Tanta roba Label Tanta roba buona Orco 2 Eh sto Non morire C'è un pochino del cazzo Sto arrivando Occhio dietro Orco 2 Quanto cazzo C'è l'ingresso Di cosa? Ok Ho bloccato l'ingresso Perché alla cripta Ci si arriva dalla terra Non da dove sei arrivato Ah la spada Che bello Ah ho capito dove siamo Ok c'è una tomba qua Però non penso ci sia niente Infatti non c'è un cazzo Sto arrivando da un attimo E che te serve? Hai preso quello che c'era dito? Si si vuoi degli stivali d'oro? Eh Potrebbero essere abbastanza shocks E tieni due bistec Vieni qui Aiuto Scherzani indietro C'è quindi ho trovato sto posto Compliamente a caso Altro ferro Si Cioè C'è una grotta dove ero caduto io Ma tu l'hai trovata abusivamente Prendi Dove stai? Ah ma qua si continua Tu non l'hai visto Ma dove stai? Nella stanza della cesta Si continua Ma no io l'ho trovato delle scale Eh qui No no dietro Sicuro non è qua Guarda si va giù Oddio Mi sono cascati Mi sono cascati De raggi in testa Mi sono cascati De raggi in testa Cosa? Niente Maginavo Ah 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 è aumentata la luminosità Al massimo Che cos'era quel botto? Eh mi ha sposo un creeper in faccia Ah Penso che mi trovo la stava giusta Guarda che sfigato qui Ma che cazzo È incastato nella web speed No Non ci posso credere Sei morto No Oddio Aiuto Aiuto Spacco io Spacco io Spacco io Che è me? Che è me? Oh mio dio No via Scapendi le scale e sali No scherzo Torna indietro Sono troppi Ma che merda? Oh mio dio Non potevi scegliere una mappa più semplice No Guarda qua Chi ero Io sono vestito a questa spada Sei un cadavere Non sono un cazzo Di capire Eri a vedere Ah è qua È queste scale Dicevo io È qua Prima Capitandoci a random Oricee Ok C'è Gliero 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 Zombie Incazzatissimi Basta 32 livelli Sei morto? No Sono vivo Allora C'è uno spawner da distruggere A quanto pare Morici Oh Cosa c'è qua? Cazzo Ammassavo Qui dentro c'è lo spawns Oddio È tipo una gabbia Veste Pieno Quattro Sono quattro E fanno esplode uno Non lì magari Siamo appena all'inizio Non voglio più giocare Ma la domanda è È all'inizio È difficile Perché all'inizio O è sempre così Perché se è sempre così Cioè L'auguramento del fegato A 7000 Sì è successo un casino È combinato No io niente Diri per cosa hanno Hanno aperto un buco Hanno fatto scendere la lava Che sta inondando Qualsiasi cosa Blocca Come cazzo faccio? Io in qualche modo Sto riuscendo a tornare Non si è tappo un cazzo Hanno fatto saltare il muro Ti sono Ecco Porca Il creeper sotto Scappa No È morto È morto Aspetta Gli spawn di creeper Sono il più Stephanie Farei una brutta fine Io l'ho caduto Aiutami Aiutami dove? Tu sei fuori di testa Ti supplico Ti supplico Perfetto Sono incastrato Stai spettando tutto Stai spettando tutto Stai spettando tutto Andiamo verso destra I fantasmi Porca puttana Oh mio dio Ti sei buttato Bravo È così che si fa Vu corri Corri su questo sbrollo Puttana vacca Oh merda Ho trovato un ingresso Dove? Ho una cesta Mi sono chiuso Mi sono chiuso Ho trovato No No Cosa? È una trattura Dove stai? Io sento che esplode tutto È capodanno Lì dove è esploso tutto Oddio Stai 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 Ho trovato C'è una cesta Dentro una vetrata Ricordate che in descrizione C'è G2A Per giochi E abbonamenti Scontatissimi C'è G2A